Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, scomi solveri così l'errore riguardo all'avvio di The First Sentent quindi in questo caso se hai riscontrato problemi sul gioco che quando vai ad avviarlo il gioco non si avvia quindi in questo caso può essere un problema riguardo a Steam oppure un problema riguardo ai tuoi componenti oppure possiamo direttamente ripristinare varie cartelle che sono collegate così al gioco per aprire il gioco senza nessun problema quindi in questo caso andiamo direttamente sul nostro gioco, quindi pagina iniziale nella nostra libreria il gioco eccolo qua, quindi andiamo direttamente sulla rotella gestisci, gestisci, andiamo su sfoglia, i file locali ed eccoli qua quindi in questo caso se riscontri problemi anche con l'easy anti cheat per esempio non si può avviare il gioco senza l'easy anti cheat quindi può essere che l'antivirus ti blocca così la cartella quindi se tu vai su il tuo Windows Defender vai su protezione da virus e minacce scendiamo fino a giù fino a trovare gestisci impostazioni e andiamo su aggiungere i nuovi esclusioni possiamo aggiungere nelle esclusioni la cartella del gioco qua quindi aggiungi un'esclusione e vado così a mettere la cartella del gioco che ho installato quindi vado direttamente su questo PC, vado su Steam nella libreria di Steam, Steam Maps, Common scendo fino a giù fino a trovare il gioco ed eccolo qua di first and center, eccolo, attenzione, la cartella così facendo in futuro se devo aggiornare il gioco l'antivirus non mi bloccherà la cartella perché io ho riscontrato anche problemi con altri giochi che l'antivirus mi eliminava un file di un gioco tipo per esempio Apex mi ha eliminato un file e non si è avviato più Apex e ho dovuto fare la verifica quindi in questo caso ripristiniamo il gioco quindi cancelliamo la cartella dell'easy anti cheat engine e basta chiudiamo un attimo qua sfudiamo pure il cestino e facciamo la verifica quindi vado su proprietà file installati verifica integrità dei file del gioco ha fatto così la verifica 64 file non sono stati convalidati verranno discaricati ha scaricato anche così questi file una volta fatto chiudiamo un attimo qua se non dovesse funzionare puoi semplicemente anche disconnetterti così dal tuo account steam e fai di nuovo riconnetterti quindi clicca qua sopra e fai disconnettiti dall'account e poi riconnetti di nuovo l'account su steam e provi così ad avviare il gioco se non dovesse funzionare andiamo direttamente su app data quindi vai su esegui quindi vai a scrivere esegui %updata% entri così in questa cartella vai su roaming scendi fino a giù vedi se hai la cartella così the first send eccola qua e vado a cancellarla e svuoto pure il cestino se non si avvia per un problema di scheda video in descrizione ti ho lasciato il link che ti potrà sulla pagina per scaricare e installare il programma Microsoft Visual C++ ed eccoli qua tutti e tre quindi vado a scaricare questi tre file una volta scaricati vado ad installare questi tre esegui come amministratore faccio ripristina il primo faccio sì faccio ripristina il secondo perché io già li tengo installati accetto così i termini questo è necessario avviare il computer quindi faccio i video lo riavvio più tardi questo non ha potuto fare nulla per chi non è sopportato dal tipo di processore quindi facciamo i video e questo devo fare chiudo qua vado direttamente su google un altro link che ti ho lasciato in descrizione questo qua metto così la lingua italiana sdk directx e faccio scarica scarico e installo così i directx sdk dopo che ho proseguito così con l'installazione mi dice che c'è un errore che quindi in questo caso non sopporta così la scheda perché questo è pure un driver vecchio però per quelli che hanno bisogno di questo driver per il gioco installatelo io non posso installarlo e faccio fine una volta fatto se devi aggiornare così la tua scheda grafica aggiornare la tua scheda attraverso i programmi come nvidia app se hai nvidia usa il programma nvidia app che ti ho lasciato in descrizione da qui puoi aggiornare la tua scheda oppure puoi aggiornarla direttamente su gestione dispositivi vado su schede video faccio aggiorna drive cerchetevi nel computer oppure cerco automaticamente i driver cerchetevi aggiornati in windows update una volta fatto tutti questi procedimenti non ci resta di avviare il gioco quindi faccio gioca a me il gioco si sta avviando anche con l'easy anti cheat attivo inizializzazione in corso e sta andando grazie 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 per la visione Grazie per la visione